Noi ad esempio ci stiamo rivolgendo a quei paesi di mitografia dell'Ucraina che stavano importando prodotti di nostri concorrenti a paesi russi che adesso grazie alle sanzioni non possono più acquistare e quindi si rivolgono a quest'altro lato del mercato, del mercato europeo, per approvvigionarsi. Quindi tentiamo di approfittare di queste opportunità. Le opportunità tra le tante difficoltà, tra guerra, sanzioni, blocco delle merci in Cina a causa Covid, caro energia, inflazione, soluzioni per la ripartenza al centro dell'evento di Confapi e intesa San Paolo. Il futuro è qui sulla crisi russo-ucraina. Testimonianze d'impresa in un mondo cambiato dopo il 24 febbraio. Sapersi reinventare giornalmente, ogni giorno saper ricontrollare i propri piani, i propri progetti, i propri business plan, saper rimodularli e cambiare nel modo di lavorare, del proprio personale, del proprio management. Sul fronte creditizio, gli interventi riguardano il sostegno contro il caro energia e la difficoltà di forniture e materie prime. Poi c'è lo scambio con l'estero, a rischio 400 milioni di export nelle marche, tra le regioni italiane più esposte rispetto alle sanzioni. Salvaguardare un po' l'export verso questi paesi con degli anticipi e con la futura canalizzazione dei crediti futuri. In fase di discussione, il ripensamento delle catene produttive. Riportando delle produzioni in area europea, dove l'Italia, essendo al centro del Mediterraneo, avrà un ruolo importante. Tutto sta che le marche trovino il loro ruolo in questo contesto. Le prospettive ci parlano di un aumento dei prezzi fino a fine anno, con un più 40% atteso, ma se alcuni mercati faticano la Cina, altri danno opportunità agli Stati Uniti. È un contesto in cui si sta creando anche una polarizzazione importante dei consumi, e quindi con opportunità importanti soprattutto per le imprese che producono beni di alta qualità. Nella tempesta il senso è fare rete rinnovando la cultura di impresa. Dobbiamo essere attenti a dare all'imprenditore la possibilità di cambiare le situazioni e dare la possibilità all'imprenditore di capire quali sono gli strumenti per poter cambiare le cose in meglio.